Amelia mangiavi, vieni qui, vieni, dai, senti buoni Gran Turchino, com'è il Gran Turchino? Brava, brava, la mia paperottola, dopo ti porto al fiume a fare il bagnetto, eh, per passare l'acqua, oi oi, scusate queste trasgressioni ma, o digressioni ma, e c'ho la papera? E dice, oi, che se pensate a che fare per la nostra modifica teca? Eh, ci sto pezzando. No, bisogna per la povera. Ci sto pezzando, mi fonti il cervello da una settimana? No, capisco, dicevo, sono fritto, no, dicevo, a parte le battute. Mi fonti il cervello anche per altri? Sì, vabbè, vado a trovare, signora, io dicevo che se tanto mi dà tanto con questo bionino così è finito, pronto, fortunatamente a fine luglio, no? Va bene? Sì. Si potrebbe anche per la più poco. Allora, che metodo si fa se uscire sul mercato? Perché, senti, il brevetto, io c'ho un po' pensato, se non siamo in grado di, di... Hai visto, no, quando uno fa una legge rigida, deve essere in grado di applicarla, se no, è una pressa di culo, no? Se io ti dico, questo non lo devi fare, se no ti taglio la testa. Ma siccome non sono in grado di controllare, lo fanno tutti, e lei è una pressa di culo, cioè, io lo dicevo, il brevetto, noi siamo in grado di difendere il nostro brevetto da uno che fa perdere da quell'altra parte del mondo, ha preso, che poi, vabbè, in effetti non è facile capire la modifica, però se uno compie un bionino e l'apre... Vabbè, quello è... per forza, no? Allora, o si mette l'autodistruzione dentro, che quel cosiddetto che si c'è di contatto e ti dà 60 secondi da parte. La batteria si è di cassa, ma in manico, non deve fare il plastico, non deve fare il plastico, non deve fare il plastico, un cosiddetto di plastico, un detonatore, e se è un timer con 60 secondi. Però io dicevo, noi non siamo in grado, l'apro, di fare una cosa del genere. Allora, noi cosa ci interessa? Però, comunque, il brevetto, penso, no, va di fatto, va da fatto, perché, per tutto non c'è un anno di tempo. Un anno di tempo per che cosa? Perché tu puoi, entro un anno, estendere la validità a livello europeo, oppure a livello internazionale. Però per fare questo ci vuole la potenza economica, non multinazionale, ma comunque è l'uno che ci vede, che ha soldi. In questo anno di tempo, se qualcuno ci vede un interesse economico, ce lo farà a lui l'investimento, ci proporrerà qualche cosa. Io farò, dicevo una cosa, al di là della questione dei sordi, allora, a noi ci interessa più che altro che si sia ricordato il fatto che questa cosa si è inventato, va bene? Sì, perché questa è una cosa importante. Ma a noi ci interessa quello, al di là dei sordi. Se viene sordi, ne ho altro discorso, però, siccome... Allora, uno fa le strade giuste, senza... Cioè? Percorre tutte le cose, per cui cerca di... Sì, ma io dicevo, come si fa a difendere il fatto che poi magari viene uno fuori e dice no, lo inventai o... Qualcosa bisogna fare... Oggi che giorno, oggi che i quindici... Uno deposita, cioè un modello di utilità... Un brevetto, cioè una miglioria... No, no, è una modifica tecnica, praticamente sarebbe... Un modello di utilità... Esatto, sì, sarebbe un... E' la prima modifica veramente tecnica a portare sui violini da altri cent'anni a questa parte. Perché poi, per il resto, sono tutte modifiche, quelle l'hanno fatto, quelle l'hanno fatto, cose o cose o cose, sono tutti... Sono tutta un'altra cosa, cioè non c'entra un cazzo, cioè il violino... Che viene fuori contro gli altri, diciamo, gli altri modifiche, sono... Gli stessi violini non gli è stata apportata nessuna cosa, cioè solamente delle differenze, di dimensioni, di cosa... Qui c'è proprio una modifica tecnica, va bene? Sì. Se uno copre un violino e l'apre, anche se è un deficiente, diciamo uno è deficiente e non lo capisce, Alla seconda, perché uno che lo capisce, c'è, capito, ma per sé, dice, l'ho aperto, non c'ho capito una sega, Vò da un altro che ci capisce, lo trovano, cioè, quindi non... Perché tu brevetta, cioè, se si brevetta va bene, ma più che a meno adesso è per una professione proprio di soddisfazione personale, perché io non credo sia possibile... Poi, tutto il resto, è verato a sé, capito? Però io non ho idea, non lo so, capito? Se qualche musicista, cioè, quando si è finito dei sordi, si porta a un musicista, se ne fa suonare, e poi si fa una serata di inaugurazione pubblica, si manda su internet, si manda la televisione e tutto il resto, e poi la gente, chi ha orecchi, come dice la Bibbia, chi ha orecchi in tenda, ascolti, prestati... E' un parabolano. Eh, ho visto. Vedrai... Si è diventato un parabolano. Si è diventato un parabolano. Non so neanche che vuol dire, ma insomma, bastano solo una stessa. Eh, allora, dicevo, però, se te tu fai una cosa di genere, dopo, non cercazzi, te l'hai inventata, te l'hai prodotta, e te c'hai il merito. Capito? Poi gli altri, proprio, negandoti. Vabbè. Mi sembra ovvio. Comunque, se non mi fa l'attenzione, la professione dei soldi... Infatti i soldi fanno sempre piacere, però, insomma, io penso che la soddisfazione della scoperta, che venga riconosciuta, a me mi interessa che ci venga riconosciuta. Poi il resto non mi interessa. Il resto, poi, dopo la mia promozione dei nostri strumenti, la promozione dei nostri strumenti la si fa da noi. Cioè, voglio dire, ma c'è proprio... Ehm, non ci sta a vedere il mio di nulla, nel momento in cui tu sei ricolore, basta che ci donoscano, ufficialmente quella che è la situazione. Ora, non vorrei che la gente la pensasse che si ragiona di nulla. Io, quando lo senti dire, il violinista che suonava, quando lo senti dire quell'altro... Quell'altro, che era lo stesso violino, gli si era fatto la modifica e questo lì lo abbia scambiato da un altro. Che, magari, la soddisfazione la c'è, la sicurezza della cosa la c'è, poi lo porti. Se la cosa la ci porta di donno a me o a tra la nostra questione? L'importante è che... Chi si è riconosciuto... Si è andato a Cesare, cioè, si è andato a Laco e a Fabio quello che è di Laco e di Fabio. Sicuramente... Guarda, Cesare è che di Cesare. Io Cesare non lo scordo. Tu conosci Cesare? No. No, ma prendiamo un caffè. La preso un caffè. Quante volte? Fa qualcosa.